Ci puoi credere che questo aperitivo gigantesco costa solo 50 euro? Ma come 50 euro? Costa solo 10 euro! Non ci posso credere! No! Come? Il cocktail? Ma il cocktail in go! Non ci credo! No no! È la vera! L'enorme c'è davvero di tutto! Adesso però ascolta la vera follia perché il cocktail è incluso nel prezzo! Siamo mettendo un po' di patatina a sfoglie! Proseguiamo leggeri! Con lo fitto non lo mettiamo! E ovviamente! Quattro panelline siciliane non possono mancare mai! Secondo me sono totalmente pazzi! Io non so com'è possibile che costi così! Non so se hai capito bene ma... Quindi quanto costa? 10 euro! 10 euro ma siamo pazzi! E che fatene prima? Vabbè questa va! E adesso è arrivato il momento! Allora finalmente il nostro tagliere aperitivo è pronto! Possiamo man... Ma qual è pronto? Che mancano? Ancora qualcosina ma... I bust e il fritto! Sono a London Café a Bagheria e quindi... Quanto costa questo mega aperitivo? Col cocktail incluso solamente 10 euro a persona!